In diretta dagli studi di via Paolo Borsellino a Fano sul canale 17 del digitale terrestre In tutta la regione Marche va in onda alle 7 del mattino Occhio ai giornali, commento alla stampa del giorno Abbiamo come sempre pronti pdf con le immagini, le pagine più importanti che abbiamo selezionato a nostro giudizio Ovviamente poi tutte le pagine sono importanti perché c'è gente dietro che ci lavora E quindi tutte le pagine sono importanti dei giornali, Corriere Adriatico e il resto del Carlino Ma come sempre prima andiamo a dare uno sguardo al calendario del giorno E poi alle previsioni del tempo Oggi è San Begnamino, il sole è sorto le 6.53 e tramonterà le 19.37 minuti Guarda che sole, mamma mia 26-27 gradi entro giovedì, sarà davvero estate, quasi agosto Sarà un'estate su quasi tutta l'Italia Pasquetta invece, Pasqua, Pasquetta cambieranno un po' le cose Ci sono degli aggiornamenti, anche se la nostra regione... Andiamo giù, io ho sbirciato intanto, andiamo a vedere domenica per esempio Domenica di Pasqua, ecco l'immagine a mezzogiorno dell'Italia Guardate, la nostra regione sarà interessata il giorno di Pasqua soltanto da qualche nuvola Mentre Pasquetta alle 6 del mattino, al mattino presto un po' di pioggia Soprattutto sul Pesarese che non fa male Poi il resto della giornata trascorrerà invece con un po' di nuvolosità E un po' di pioggia sempre sul nord Italia e a lambire il nord della nostra regione Ma vedete, a 1900 metri nel centro Italia c'è anche la neve Il che significa che, insomma, le temperature scenderanno Questa intanto è la giornata di oggi, vedete c'è il sole Il sole è domani primo aprile, lo stesso, il sole su gran parte dell'Italia Andiamo adesso a vedere subito i giornali Allora, intanto a proposito di sole, di colori, di giallo Andiamo su quello che potrebbe essere il colore della regione Marche dopo Pasqua Ovvero arancione, quindi si tornerebbe, ma usiamo sempre il condizionale Perché ci sono ancora in ballo dei dati Ma comunque dopo Pasqua potrebbe tornare l'arancione in tutta la regione Marche Il titolo infatti del Corriere è questo Le Marche vedono arancione, frenata dei contagi e anche l'RT si è abbassato Siamo passati da 1,15 a 1,07 L'ipotesi del cambio colore è dal 7 di aprile Ancone e Macerata flettono, ma sono ancora indietro Gli ospedali restano sempre sotto pressione Suore di clausura, tutte positive Focolaio nel convento di Santa Veronica Questa è la fotonotizia del Corriere di oggi Già pronte 100 farmacie per iniettare i vaccini Ci soffermeremo un po' su questo articolo di Massimiliano Viti All'interno delle pagine Di taglio basso invece, ex caserma Siamo a Fano, ora si rilancia l'idea della valorizzazione La giunta di Fano dà un incarico all'Ateneo di Camerino Polo aggregatore per giovani e porta per il centro Mentre il Carlino di Pesero la fotonotizia la dedica ai monoclonali Anche oggi, Benedetti e monoclonali Il titolo parla uno dei primi curati con la nuova terapia Lui dice, racconta, sto benissimo Medici specializzanti per vaccinare Il personale non basta e ora Asur cerca rinforzi Giocando anche la carta dei giovani camici bianchi Aumentano le domande invece per i buoni spesa Il fondo anticrisi, sono le nuove povertà E poi nidi e scuole per l'infanzia, aiuti alle famiglie L'8 aprile invece via i tamponi per gli alunni di prima media a Pesero E a Pesero i pesaresi piangono Dino Brisigotti Il maestro di scuola guida aveva 76 anni E poi c'è l'intervista ad un medico Che dice, troppi casi di quarantene non rispettate Queste vanno denunciate Consegna domicilio anche per la droga Una condanna e un ventenne che è finito nei guai E poi sotto, sempre dal carino di Pesero Villa Marine, il comune compra 1.300.000 euro all'Inps Per il parcheggio e l'area sportiva dell'ex colonia Poi a Casa WL c'è la società di Paltrinieri Sarà la Copernuoto a subaffitare la piscina di Via Togliatti Ecco il progetto complessivo Il carino di Ancona invece ha molta cronaca La fotonotizia è per il dramma di un bancario di 44 anni Che non è rientrato a casa a Senigallia Ieri è stato trovato morto nel dirupo Il corpo di Corrado Bellucci, manager BPR Sotto il belvedere di Via Selandari a Pietralacroce L'allarme è stato dato dalla moglie Ieri mattina una telecamera l'ha ripreso mentre telefonava L'ultimo messaggio invece alla mamma Addio la figlia di Carlo Urbani La morte è avvenuta per un mix di droghe Ma il titolo d'apertura sempre da Senigallia Mi sono difeso, non volevo ucciderlo Loris Pasquini in carcere per aver sparato al figlio Mi veniva contro con un bastone E dice lui, quindi ho sparato Allora, ripartiamo dunque entrando nelle pagine interne Dalla notizia che le Marche ha numeri adesso Che potrebbero farci sperare in un ritorno nella zona arancione In sette giorni meno mille casi, titola il Corriere di oggi E 250 infetti su 100.000 abitanti Ora, tra il 21 e il 28 di marzo si è registrata una decisiva frenata dei contagi Maria Teresa Bianciardi, questa mattina nel raccontarci un po' Quelli che sono i dati aggiornati La frenata sostanziale che ci sta riportando sulla giusta strada Inizia dicendo che appunto la buona notizia dopo settimane di buio È che le misure anti-Covid stanno dando risultati incoraggianti Nelle Marche in soli sette giorni è stato registrato un calo di oltre mille casi E tutte e cinque le province stanno invertendo la curva in maniera sensibile Non solo, si è anche raggiunto il valore, come dicevamo, importantissimo Anzi direi fondamentale Di 250 casi per 100.000 abitanti Con un abbassamento anche dell'indice RT Che è l'indice di contagio appunto Che è un parametro, anche questo insieme ai 250 casi per 100.000 abitanti È un parametro importante che il governo controlla settimanalmente Per poi assegnare le colorazioni E questi dati, come ho già detto, potenzialmente posizionerebbero la Regione Marche Dal prossimo 7 di aprile, che è un mercoledì Posizionerebbero nella zona arancione Tra l'altro mercoledì riapriranno anche le scuole E questo dovrebbe avvenire, se fossimo di nuovo rossi Fino alla prima media Così nella zona arancione probabilmente andrà anche meglio Potenzialmente, diciamo E usiamo sempre il condizionale Si potrebbe tornare in zona arancione Anche se il 6 di aprile scade il decreto Draghi Quindi i provvedimenti slitteranno di 48 ore Potrebbero essere classificati in zona arancione Bisogna vedere appunto Che cosa deciderà poi il governo Se il governo deciderà di far valere altre due settimane I provvedimenti già intrapresi Quindi di prolungare la zona rossa Allora a quel punto non c'è colore arancione che tenga In questo caso si resterà in zona rossa Scuole in presenza fino alla prima media Almeno fino a lunedì 12 di aprile Insomma, una situazione che è incoraggiante È da vedere Quindi vuol dire che i marchigiani stanno facendo bene Anche se con la pistola puntata, viene da dire Perché c'è voluta la zona rossa Per far abbassare i contagi E questo è un limite Ma comunque Per Ancone e Macerata La frenata è più evidente Ma sono ancora indietro Le due province chiuse Per prime Un mese fa Con l'ordinanza di Acquaroli E quindi Anche loro stanno andando bene Ma sono ancora un po' indietro Mentre le marche Ieri devono Registrare ancora 10 morti Due pazienti Avevano 51 e 59 anni Sul fronte invece dei vaccini Pfizer Sono arrivate ieri mi pare 30.000 dosi di Pfizer Mentre arriveranno ad aprile Altre dosi Altre dosi che aumenteranno dunque La possibilità di vaccinare Ma c'è anche un altro Un altro vaccino Che farà il suo debutto Il giorno stabilito Ai 16 aprile Arriveranno in Italia I primi vaccini Johnson & Johnson È un farmaco Monodose Cioè non c'è bisogno Del richiamo Si fa una volta sola Ed è Della multinazionale americana E in Italia Dovrebbero arrivare Appunto dal 16 di aprile Qualcosa come 7 milioni Di dosi Pelo meno Fino entro giugno Ora Tra questi C'è anche da dire Che Insomma poi arriveranno Tutte queste dosi Anche Pfizer Ha annunciato Che arriveranno Tantissime altre dosi Quindi a quel punto Arriveranno le dosi Ma serviranno I vaccinatori E quindi a dar manforte Ai vaccinatori Attualmente In campo Ci saranno Anche i farmacisti E allora Andiamo a vedere A pagina 5 Quest'articolo di Massimiliano Viti Come dicevo Domande e risposte Che sono interessanti Perché Ci danno un po' L'idea Di come Potremmo Affrontare Nelle prossime settimane Il nostro turno Allora 100 sono Coloro che sono Disporibili 100 farmacisti Sono già disponibili Sono 100 farmacisti Vaccinatori Ma ce ne sono Altri 150 Pronti Per il punto Vaccinale E Questo grazie anche Ad un accordo nazionale E allora Tutto quello che c'è da sapere Velocemente Senza Togliervi Il gusto Poi di leggere Nel dettaglio L'articolo Che troverete Comprando il giornale Questa mattina Allora Abbiamo detto Che il vaccino Quando sarà disponibile E che Probabilmente Inietteranno I farmacisti È solo Quello americano Il Johnson & Johnson Perché Sarà disponibile A partire Dalla seconda Metà Di aprile La regione Coordinerà La vaccinazione Quindi Ne detterà I tempi Il rispetto Dei soggetti Quindi Delle persone Che hanno Le priorità Secondo Le linee guida Del governo Non è che uno Va lì in farmacia Dice Voglio fare il vaccino Si accomodi Faccio il vaccino No C'è una scaletta Anche qui Una priorità Probabilmente Veremo chiamati Si verrà chiamati E poi Quindi si andrà A fare questo vaccino Sono già disponibili Come dicevo 100 farmacisti marchigiani 150 farmacie Sono già pronte Ad allestire All'interno Un punto vaccinale Non sarà possibile Vaccinarsi in farmacia Invece Se si è A rischio Oppure C'è un'anamnesi Positiva Pregressa Avete avuto Qualche reazione Allergica Qualche Reazione Allergica Di qualunque tipo Insomma Dovete essere Comunque soggetti Insomma Sani Per poter andare In farmacia E fare Questo vaccino I farmacisti Che sarà Ovviamente Sono tenuti A fare dei corsi Un corso Anzi di formazione Prima di diventare Vaccinatori Quindi saranno Informati A dovere Per ricevere Il vaccino In farmacia Non bisogna Né aver avuto Negli ultimi Dieci giorni Contatti Stretti Con persone Affette Da covid E qui non bisogna Barare Poi lo vedremo Ecco perché lo dico Né la temperatura Superiore a 37 Gradi e mezzo Ma questa verrà Misurata probabilmente Quindi da lì Non si fugge Ma neanche Bisogna avere Qualche Sintomatologia Respiratoria Quindi un po' Di raffreddore Un po' Di tosse Eccetera Eccetera Poi All'ottava domanda Perché Si fa il Johnson & Johnson Abbiamo già detto Perché è un monodose Quindi è più Facile da utilizzare Anche da conservare Gli altri vanno tenuti In frigoriferi speciali A meno 80 gradi Centigradi Invece questo qua È da frigorifero Quindi insomma Quello che abbiamo Anche noi a casa E soprattutto C'è l'aspetto Dei 15 minuti Quello critico Dopo aver fatto La puntura Bisogna aspettare 15 minuti Bene Secondo Appunto Questa Indicazione L'aspetto critico È il tempo Di osservazione Di questi 15 minuti Che il soggetto Deve rispettare Dopo aver ricevuto Il vaccino Per le farmacie Questo vuol dire Avere ampi spazi Disponibili Ecco Allora che stiamo Studiando Dicono dalla regione Delle soluzioni Anzi Anzi dice il vicepresidente Sì Regionale di Federfarma Una di queste Prevista anche Nell'accordo È la possibilità Di vaccinare Durante l'orario Di chiusura Delle farmacie Stesse Quindi per evitare Che si sovrappongono I clienti Che vanno in farmacia Per prendersi Altro Per fare acquisti E quant'altro E quelli che invece Lì vanno Per vaccinarsi Quindi si sta studiando Questa possibilità Di andare Poi qui Mi viene in mente Ci sono delle farmacie Che hanno degli orari Anche molto prolungati Che sono molto comodi Quindi Bisognerà capire Magari si chiuderanno Un po' prima Eccetera Ma comunque È interessante Questo articolo Ripeto Lo potrete trovare Sul Corriere Adriatico Il resto del canino Invece È sempre sui vaccinati Anche qui Domande e risposte C'è un Un elemento Sul quale Ci soffermiamo Un attimo Perché qualche giorno fa Vi ricorderete Abbiamo parlato Sempre Utilizzando un articolo Del Corriere Adriatico Un articolo per dire Si era avanzato Il sospetto Che forse Chi aveva Si era appena vaccinato Con AstraZeneca Mi pare Fosse quello Poteva essere contagioso Era stata buttata lì Poi Non si è saputo più nulla Comunque I vaccinati Non sono contagiosi Questo è il titolo E l'immunità Dura due anni Oltre a difenderci Questi sono Sono dati Che si ricavano Da uno studio E quindi Sono dati Non di un Di un virologo Che è andato lì In televisione A dire La sua opinione No Sono studi Quindi Quindi su questo Possiamo Stare tranquilli Perché c'è uno studio Pubblicato Oltre a difenderci Dalle conseguenze Letali E invalidanti Del virus Del covid Si dimostra Questo vaccino Capace di interrompere La catena dei contagi Si è visto infatti Che il rischio Di contrarre l'infezione Nella popolazione Sottoposta A vaccino mRNA Cioè tipo Pfizer o Moderna Risulta ridotto Del 90% Dopo due dosi Essendo già Dell'80 Dopo invece Una singola dose Lo studio È stato condotto Dai centri Per la prevenzione Il controllo Delle malattie Su 3950 medici E infarmieri Vaccinati Negli Stati Uniti E monitorati Per 13 settimane A partire Da dicembre Stati Uniti Sono partiti Prima di noi Molto prima di noi E quindi Già è possibile Avere Degli studi È possibile Avere dei risultati Mentre ancora Da noi Insomma Si va un po' A rilento E quindi Ci vorranno ancora Un po' di settimane Prima di avere I risultati Appunto Dei primi Studi Come fanno i vaccini A rallentare I contagi Servono almeno Due settimane Dopo la somministrazione Di ciascuna dose Di vaccino Per sviluppare Anticorpi Protettivi Questa è la Come dire Per quanto riguarda I tempi È la notizia Secondo me Più importante Che già sapevamo Perché sono tutte cose Che già circolavano Tutte informazioni Che già si sapevano Però Adesso Ci sono le conferme Grazie a questi studi E grazie anche a queste cose Che arrivano dall'America Perché sono partiti prima Mentre AstraZeneca Ha deciso Di cambiare nome Giustamente Ma la Germania Lo vieta ancora E lo vieta A chi ha meno Di 60 anni Intanto Nella fotografia Vedete Il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi Con la consorte Con la moglie Che La moglie Maria Serenella Cappello Che ieri Ieri mattina Alle otto e mezza Alle otto e trenta Si sono presentati Al centro vaccinale Al lab Della stazione Termini Di Roma E Espletate Le formalità Di rito Hanno ricevuto La prima dose Del siero AstraZeneca Tra l'altro Lo definisce Il giornale Un vaccino Di famiglia Perché Perché Vi abbiamo detto Anche nelle settimane scorse Anche il figlio Di Mario Draghi Si è Si è Vaccinato A Londra Proprio con Lo stesso Prodotto San Marino I nostri vicini Di casa San Marino Invece Va Da tutta un'altra parte E ha deciso Di puntare Su un vaccino Sul vaccino Russo Lo Sputnik E Dicono Da San Marino Insomma Funziona Pochi effetti collaterali Sono circa Diecimila cittadini Della Repubblica del Titano Vaccinati Col siero russo I risultati Sono incoraggianti Studio approfondito Con lo Spallanzani Per capire L'efficacia Della risposta immunitaria Per quanto riguarda Le reazioni Insomma Soltanto Piccoli malesseri Malesseri lievi In un numero Limitato di persone Segnalati Un po' di mal di testa Un po' di febbre Qualche dolore muscolare Ma insomma Niente Niente di che Mentre Ci sta provando Per lo meno Ancora Dovrà avere L'ok Dell'EMA Ma il governatore De Luca Vincenzo De Luca Che ha detto Che andrà avanti Da solo Bonaccini Delle Miglia Romagna Lo ha frenato Ma il governatore Della campagna Diceva davanti Se ci daranno L'ok Io ho già pronto Il contratto Firmato Per comprare Lo Sputnik Intanto Sulla pagina 3 Del Carlino Questa mattina Benedetta Iacobucci Ha intervistato Questo signore Di 52 anni Che si chiama Alessandro Cecchini Operaio Verniciatore E dice Insomma Che È guarito Perché Gli è stato infuso Sono stati fatti Ha ricevuto Gli anticorpi Emonoclonali Non ho più sintomi Dice Ora sto benissimo È stato tra i primi Tra l'altro in Italia A sottoporsi a questa terapia Era il 19 marzo Quando Marche Nord Ha iniziato i trattamenti Il suo fisico Già provato Da un trapianto di rene Ha avuto Subito Dei benefici E dice Io respiro bene Aspetto solo Di andare in spiaggia E di mettere Quel famoso Timbro ufficiale Che Appunto Che è il tampone Che si spera Negativo E che dovrà fare domani Ovviamente Con tutti gli auguri Mi avevano detto Che sarei stato meglio Nel giro di dieci giorni E hanno avuto ragione E su questo Ecco Anche qui Arrivano Conferme Mentre Quest'altro articolo A pagina 4 Del resto del Carlino È un articolo Che Finalmente Mette nero su bianco Quello che Più o meno Ci diciamo O sappiamo Ma questa volta Elisabetta Rossi Ha intervistato Paolo Marchionni Che è responsabile Della medicina legale Dell'area Vasta 1 Lo vedete in questa fotografia Il quale Marchionni Dice delle cose Che sono Sotto gli occhi Di tutti Anche se sono impossibili Da Identificare Ma Che in qualche modo Sappiamo Perché impossibili Da identificare Perché Parliamo di Potenziali untori Cioè persone Che dovrebbero Dico Dovrebbero Rimanere in casa Perché Potenzialmente Sono state a contatto Con persone positive Contatti stretti Con persone positive Non so Esempio Un operaio Che deve necessariamente Andare a lavorare Ma che ha la moglie Positiva In casa Ebbene Ebbene Quell'operaio Non potrebbe Nella maniera Più assoluta Uscire di casa Dovrebbe stare In quarantena Invece Siccome deve portare A casa lo stipendio Siccome Non può stare a casa Non può permettersi O per mille ragioni Prende E se ne va Esce E va a lavorare Come se niente fosse Di questo parla Il dottor Marchionni E di questo È pieno Il nostro paese Di queste persone È pieno Nel nostro paese Ora Nessuno Vuol fare Il moralizzatore Nessuno vuol fare Il populista Nessuno vuol fare nulla Vuol dire nulla Dico solo Che c'è un allarme Che ha lanciato Il responsabile Appunto Dell'area vasta 1 E che dice Esattamente Non rispettano L'ordine del proprio dottore Perché poi tra l'altro C'è anche il medico Che una volta Che va per la moglie Sempre restando Nello specifico Dicendo alla moglie Di stare a casa Perché chiaramente È positiva La stessa cosa Deve dire E dice Al marito Che magari Le è stato vicino O lei è vicino E quindi dovrebbe stare In isolamento domiciliare Questo Ordine del dottore Viene disatteso E dunque Che cosa si fa? Niente Anche se potrebbero Essere denunciati Sono pazienti untori Comincia così L'articolo di Elisabetta Rossi Dovrebbero stare In quarantena Invece continuano A lavorare Uscire Vivere in mezzo Agli altri Come se nulla fosse In barba All'ordine del medico Di stare a casa In attesa Di diventare negativi A sollevare il velo Su questa categoria Di trasgressori Ora a rischio Denuncia E il medico Marchionni Ecco Quindi non si parla Solo di persone Che sono a stretto contatto Ma anche persone Proprio che sono positive Che però Devono andare a lavorare Che però Devono portare a casa Lo stipendio Perché sono le partite IVA Perché sono operai Che lavorano In proprio Tutte queste Sono persone Quindi Che In teoria Sono fuori legge No in teoria In pratica Sono fuori legge Sono persone Venute a contatto Con soggetti Risultati positivi Al test Effettuato dal medico Di base Nel frattempo I contatti stretti Del soggetto positivo Devono mettersi In quarantena Ed attendere Il tampone Di liberazione Quello dei contatti Asintomatici positivi Il problema È che molti Non rispettano Queste prescrizioni Quanti sono Questi potenziali Untori Beh Difficile dirlo Il tracciamento Infatti Non è semplice I medici di famiglia Della Revasta Sono 250 A fronte Dei 15 sanitari Del dipartimento Di prevenzione Che si dedicano All'opera Di tracciamento Dei contatti Individuare immediatamente I trasgressori È difficile E c'è tutta poi L'intervista Che appunto Riguarda Queste persone Queste situazioni Tra l'altro Noi i famosi Rintracciatori Ce li abbiamo Proprio qui Sono i nostri vicini De casa Abbiamo detto Che siamo qui In via Paolo Brucellino Loro stanno Proprio qua di fianco Allora Andiamo velocemente A vedere le altre pagine Siamo su quella Di Senigallia Chiamiamo argomento Chiudiamo l'argomento Pandemia Qui c'è la cronaca Questa tragedia Terribile Che si è consumata L'altro giorno A Senigallia Questi sono i protagonisti L'uomo Di 72 anni Ex ferroviere In Senigallia Che l'undi pomeriggio Ha esploso Un colpo di pistola E ha ucciso il figlio Alfredo 26 anni Eccolo qua Il ragazzo in passato Era stato seguito Anche da una comunità Per i suoi problemi Psichici Loris Pasquini Due matrimoni Alle spalle Dall'ultimo Ha avuto due figli Viveva con la nuova compagna Al piano inferiore Di una casa In campagna Nella frazione di Roncitelli In via Sant'Antonio Diceva di essere Un ex militare Dal suo profilo Facebook Emergono le sue idee E la sua propensione Quindi propensione Alle armi Ma È la vittima È la vittima Alfredo Pasquini Un'adolescenza difficile Alle spalle Era affetto da problemi psichici Aveva frequentato Anche una comunità Terapeutica A suo carico Risultano piccoli Precedenti In materia di sostanze Stupefacenti Aveva un'invalidità Conclamata Tanto che percepiva Una pensione Intanto la donna Di origini tailandesi Con il sequestro Dell'immobile Non sa più Dove andare La donna Che attualmente La compagna Appunto di Loris Un nuovo sopralluogo In questa villetta Dell'orrore Adesso questa donna È ospitata Dalla Caritas A Fano invece Addio a Sergio A Sergio Ferri Il decano Dei bagnini È morto Lo storico concessionario Della spiaggia Sassonia Tra le prime Concessioni fanesi Si è andato All'età di 97 anni È morto sabato Ieri pomeriggio Si sono svolti i funerali Nella chiesa di San Marco A Sassonia E per quasi 55 anni Sergio Ha gestito I bagni Che portano il suo nome E che ha mantenuto Questo nome Anche dopo la concessione Che ha venduto Nel 2005 È stato uno Dei primi concessionari Di spiaggia di Fano Ricorda Mario Ferri Che oggi Seguendo le urme paterne Gestisce una spiaggia Metauriglia Scrive Anna Marchetti Nel suo articolo Che ricorda Come questo lupo di mare Era un esperto Di venti Di correnti marine Dava anche le previsioni Del tempo Le previsioni meteo E davvero Non ne sbagliava una Lo ricorda anche Matteo Renzi Che dice Con lui Se ne va un pezzo Della storia balneare Turistica Non solo di Sassonio Insomma Ma proprio di Fano Gimarra Le varianti Gimarra è un quartiere di Fano Le varianti Dello studio perugino Niente tunnel Al suo posto Una strada che affianca Via di Rindella Rotatoria ridotta E spostata al lato Novità anche alla trave Caserma Nuova valorizzazione In carico All'Università Camerte Cultura Sostenibilità E tecnologia Le linee indicata Dalla giunta Con attenzione Ai giovani L'accordo quadro Scontenta tutti Terremo gli occhi Bene aperti Strappo di Baldarelli Di CNA Critici Ordini e collegi Professionisti Penalizzati E poi Cercate partner Alternative per Aset La mozione per uscire Dal vicolo cieco Il documento Delle minoranze Diventa strategico Per i vincoli Sul mandato Le scadenze Delle concessioni E' morto Dino Maestro di scuola guida Con il sorriso Ma Pesaro Brisigotti Aveva 76 anni Il tempo a nostra disposizione È finito Vi ricordo Questa sera Esplorare i confini Anzi oggi pomeriggio Alle 16.15 Poi la ginnastica Che inizierà Alle 15.45 La proposta di pace Dei profughi siriani Con Andrea Angelucci Ed è tutto Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie per averci seguito